De Cameroun, terza giornata, nona novella. Giletta di Nerbona, guerisce il re di Francia d'una fistola. Domanda per marito Beltramo di Rossiglione, il quale, contra sua voglia sposatala, a Firenze se ne va per il sdegno. Dove, vagheggiando una giovane, in persona di lei, Giletta giacque con lui e ebbene due figliuoli, perché egli poi ha avuta la cara per moglie la tenne. Restava, non volendo il suo privilegio rompere a Dioneo, solamente a dire alla reina, con ciò fosse cosa che già finita fosse la novella di Lauretta. Per la qualcosa essa, senza aspettare di essere sollecitata da suoi, così tutta vaga cominciò a parlare. «Chi dirà novella o mai, che bella paia, avendo quella di Lauretta udita?» Certo vantaggio ne fu che ella non fu la primiera, che poche poi dell'altre ne sarebbero impiaciute. E così spero che avverrà di quelle che per questa giornata sono a raccontare. Ma pure, che ente che ella si sia, quella che alla proposta materiamo occorre, vi conterò. Nel reame di Francia fu un gentile uomo, il quale chiamato fu Isnardo, conte di Rossiglione, il quale, perciò che poco sano era, sempre appresso di sé teneva un medico, chiamato Maestro Gerardo di Nervona. Aveva il detto conte un suo figliol piccolo, senza più, chiamato Beltramo, il quale era bellissimo e piacevole. Ecco lui altri fanciulli della sua età s'allevavano, tra quali era una fanciulla del detto medico, chiamata Giletta, la quale infinito amore, e oltre il convenevole della tenera età fervente, pose a questo bel tram, al quale, morto il conte, e lui nelle mani del re lasciato, ne convenne andare a Parigi, di che la giovinetta fieramente rimase sconsolata. E non guaria presso, essendo il padre di lei morto, se onesta cagione avesse potuto avere, volentieri a Parigi, per vedere Beltramo, sarebbe andata. Ma essendo molto guardata, perciò che ricca e sola era rimasa, onesta via non vedea. Essendo ella già d'età da marito, non avendo mai potuto Beltramo dimenticare, molti ai quali i suoi parenti le avevano voluta maritare rifiutati in avea, senza la cagion di mostrare. Ora avvenne, chiarvendo ella dell'amor di Beltramo, più che mai, perciò che bellissimo giovane, udiva che era divenuto, le venne sentita una novella, come a re di Francia, per una nascenza che avuta via nel petto, era male stata curata, gli era rimasa una fistola, la quale di grandissima noia e di grandissima angoscia gli era. Né si era ancora potuto trovare medico, come che molti se ne fossero spermentati, che di ciò l'avesse potuto guerire, ma tutti l'avevano peggiorato. Per da qualcosa il re disperato se ne, più d'alcun non volea né consiglio né aiuto. Di che la giovane fu oltremodo contenta, e pensò sì, non solamente per questo aver legittima cagione da andare a Parigi, ma se quella infermità fosse che ella credeva, leggermente poterle venir fatto daver Beltram per marito. La onde, siccome colei che già dal padre aveva assai cose apprese, fatta a sua polvere di certe erbe utili a quella infermità che avvisava che fosse, montò a cavallo e a Parigi nandò. Ne prima altro fece che la singegnò di vedere Beltramo, e appresso, nel cospetto del re venuta, di grazia chiese che la sua infermità gli mostrasse. Il re, veggendola bella, giovane e avvenente, non gliele seppe disdire, mostrò gliele. Come costella ebbe veduta, così incontanente si confortò di doverlo guerire, e disse, «Monsignore, quando vi piaccia, senza alcuna noia o fatica di voi, io ho speranza in Dio d'avervi in otto giorni di questa infermità renduto sano». Il re si fece in sé medesimo beffe delle parole di Costei, dicendo, «Quello che i maggior medici del mondo non hanno potuto né saputo, una giovane femmina, come il potrebbe sapere?» Ringraziò ladunque della sua buona volontà, e rispose che proposto via seco di più consiglio di medico non seguire. A cui la giovane disse, «Monsignore, voi schifate la mia arte perché giovane e femmina sono, ma io vi ricordo che io non medico con la mia scienza, anzi con l'aiuto di Dio, e con la scienza del maestro Gerardo Nerbonese, il quale mio padre fu e famoso medico mentre visse». Il re allora disse seco, «Forse me costai mandata da Dio, perché non provo io ciò che ella sa fare? Poi dice, senza noia di me, in piccio il tempo, guerirmi». E accordatosi di provarlo, disse da Micella, «E se voi non ci guerite facendoci rompere il nostro proponimento, che volete voi che ve ne segua?» «Monsignore», rispose la giovane, «fatemi guardare, e se io in fra otto giorni non vi guerisco, fatemi bruciare, ma se io vi guerisco, che merito me ne seguirà?» A cui il re rispose, «Voi mi parete ancora senza marito, se ciò farete, noi vi maritaremo bene e altamente». al quale la giovane disse, «Monsignore, veramente mi piace che voi mi maritiate, ma io voglio un marito tal quale io il vi domanderò, senza dovervi domandare alcun dei vostri figlioli o della casa reale». Il re tantosto le promise di farlo. la giovane cominciò la sua medicina e in breve, anzi il termine, l'ebbe condotto a sanità. Il che il re, guerito sentendosi, disse, «Domigella, voi avete ben guadagnato il marito». A cui ella rispose, «Adunque, monsignore, ho io guadagnato bel tramo di Rossiglione, il quale infino nella mia puerizia io cominciai a amare, e ho poi sempre sommamente amato. Gran cosa parverrei dove gliele dare, ma poi che promesso la via, non volendo della sua fe mancare, si fece chiamare e si gli disse, «Beltramo, voi siete ormai grande e fornito. Noi vogliamo che voi torniate a governare il vostro contado e con voi ne meniate una damigella la quale noi vabbiamo per moglier data». Disse Beltramo, «E chi è la damigella, monsignore?» A cui re rispose, «Elecco lei la quale n'ha con le sue medicine sanità renduta». Beltramo, il quale la conoscea e veduta la vea, quantunque molto bella gli paresse, conoscendo lei non esser di legnaggio che la sua nobiltà bene stesse, tutto sdegnoso disse, «Monsignore, dunque mi volete voi dar medica per mogliere? Già a Dio non piaccia che io si fatta femmina prenda giammai». A cui il re disse, «E dunque volete voi che noi veniamo meno di nostra fede, la qual noi per riaver sanità donammo alla damigella che voi in guiderdon di ciò domandò per marito?» «Monsignore», disse Beltramo, «Voi mi potete torre quanto io tengo e donarmi, siccome vostro uomo, a chi vi piace, ma di questo vi rendo sicuro che mai io non sarò di tal maritaggio contento». «Sì, sarete», disse il re, «Perciò che la damigella è bella e savia e amavi molto, perché speriamo che molto più lieta vita con lei avrete che con una dama di più alto legnaggio non avreste». Beltramo si tacque e il re fece fare l'apparecchio grande per la festa delle nozze. E venuto il giorno a ciò determinato, quantunque Beltramo malvolentieri il facesse, nella presenza del re la damigella sposò che più che se l'amava. «È questo fatto, come colui che seco già pensato avea quello che far dovesse, dicendo che al suo contado tornarsi volea, e qui vi consumare il matrimonio, chiese comiato al re. E montato a cavallo, non nel suo contado se ne andò, ma se ne venne in Toscana. E saputo che i fiorentini guerreggiavano cosanesi, a essere in lor favor si dispose, dove lietamente ricevuto, e con onore fatto di certa quantità di gente capitano, e da loro avendo buona provisione, al loro servigio si rimase e fu buon tempo. La novella sposa, poco contenta di tal ventura, sperando di doverlo, per suo bene operare, rivocare al suo contado, se ne venne a Rossiglione, dove da tutti come l'ordonna fu ricevuta. Quivi trovando ella per lo lungo tempo che senza conte è stato vera ogni cosa guasta e scapestrata, siccome savia donna, con gran diligenza e sollecitudine ogni cosa rimise in ordine, di che i soggetti si contentarono molto, e lei ebbero molto cara, e poserle grande amore, forte biasimando il conte di ciò che egli di lei non si contentava. Avendo la donna tutto racconcio il paese, per due cavalieri al conte il significò, pregandolo che se per lei stesse di non venire al suo contado, gliele significasse, e ella per compiacergli si partirebbe. Alli quali esso durissimo disse, di questo faccia ella il piacer suo, io per me vi tornerò allora a essere con lei che la questo anello avrà in dito, e in braccio figliolo da me acquistato. Egli avea l'anello assai caro, né mai da se il partiva, per alcuna vertù che stato gli era dato a intendere che gli avea. I cavalieri intesero la dura condizione posta nelle due quasi impossibili cose, e, veggendo che per loro parole dal suo proponimento non potevano rimovere, si tornarono alla donna, e la sua risposta le raccontarono. La quale, dolorosa molto, dopo lungo pensiero deliberò di voler sapere se quelle due cose potessero venire fatte, dove, a ciò che per conseguente il marito suo riavesse, e avendo quello che far dovesse avvisato, ragunati una parte dei maggiori e dei migliori uomini del suo contado, loro assai ordinatamente e con pietose parole raccontò ciò che già fatto avea per amor del conte, e mostrò quello che di ciò seguiva, e ultimamente disse che sua intenzione non era che per la sua dimora a Quivi il conte stesse in perpetuo essilio, anzi, intendeva di consumare il rimanente della sua vita in pellegrinaggi e in servigi misericordiosi per salute dell'anima sua e pregogli che la guardia e il governo del contado prendessero e al conte significassero lei avergli vacua e espedita lasciata la possessione e dileguatasi con intenzione di mai in rossigione non tornare. Quivi mentre ella parlava furono lacrime sparse assai da buoni uomini e a lei porti molti prieghi che le piacesse di mutare consiglio e di rimanere ma niente montarono essa ha comandati loro a Dio con un suo cugino e con una sua cameriera in abito di pellegrini ben forniti a denarie e care gioie senza sapere alcuno dove ella s'andasse entrò in camino nemmai ristette si fu in Firenze e quindi per avventura arrivata in un alberghetto il quale una buona donna vedova teneva pianamente a guisa di povera pellegrina si stava desiderosa di sentir novelle del suo signore avvenne dunque che il seguente di ella vide davanti all'albergo passare Beltramo a cavallo con sua compagnia il quale quantunque ella molto ben conoscesse non di meno domandò la buona donna dell'albergo chi egli fosse a cui l'albergatrice rispose questi è un gentile uom forestiere il quale si chiama il conte Beltramo piacevole e cortese e molto amato in questa città e è il più innamorato uom del mondo d'una nostra vicina la quale è gentil femmina ma è povera vero è che onestissima giovane è e per povertà non si marita ancora ma con una sua madre savissima e buona donna si sta e forse se questa sua madre non fosse avrebbe la già fatto di quello che a questo conte fosse piaciuto la contessa queste parole intendendo raccolse bene e più tritamente esaminando venendo ogni particolarità e bene ogni cosa compresa formò il suo consiglio e apparata la casa e il nome della donna e della sua figliola dal conte amata un giorno tacitamente in abito pellegrino la se ne andò e la donna e la sua figliola trovate assai poveramente salutatele disse alla donna quando le piacesse le volea parlare la gentil donna levatasi disse che apparecchiata era ad udirla entrate se ne sole in una sua camera e postesi a sedere cominciò la contessa madonna e mi pare che voi siate delle nemiche della fortuna come sono io ma dove voi voleste per avventura voi potreste voi e me consolare la donna rispose che niente una cosa desiderava quanto di consolarsi onestamente seguì la contessa a me bisogna la vostra fede nella quale se io mi rimetto e voi mi ingannaste voi guastereste i vostri fatti e miei sicuramente disse la gentil donna ogni cosa che vi piace mi dite che mai da me non vi troverete ingannata allora la contessa cominciatasi dal suo primo innamoramento chi è la era e ciò che è intervenuto l'era infine a quel giorno le raccontò per si fatta maniera che la gentil donna dando fede alle sue parole siccome quella che già in parte udite l'aveva da altrui cominciò di lei aver compassione e la contessa i suoi casi raccontati seguì udite adunque avete fra l'altre mie noie quali siano quelle due cose che avermi convenga se io voglio avere il mio marito le quali nient'altra persona conosco che farmele possa avere se non voi se quello è vero che io intendo cioè che il conte mio marito sommamente ami vostra figliola a cui la gentil donna disse madonna se il conte ama mia figliola io non so ma egli ne fa gran sembianti ma che posso io perciò in questo adoperare che voi desiderate madonna rispose la contessa io vi dirò ma premieramente vi voglio mostrare quello che io voglio che ve ne segua dove voi mi serviate io vegio vostra figliola bella e grande da marito e per quello che io abbia inteso e comprendermi paia il non aver ben da maritarla ve la fa guardare in casa io intendo che in merito del servigio che mi farete di darle prestamente dei miei denari quella dote che voi medesima a maritarla onorevolmente stimerete che sia convenevole alla donna siccome bisognosa piacque la proferta ma tuttavia avendo l'animo gentil disse madonna ditemi quello che io possa per voi operare e se egli sarà onesto a me io farò volentieri e voi appresso farete quello che vi piacerà disse allora la contessa a me bisogna che voi per alcuna persona di cui voi vi fidiate facciate al conte mio marito dire che vostra figliola sia presta a fare ogni suo piacere dove ella possa esser certa che egli così l'ami come dimostra il che ella non crederà mai se egli non le manda l'anello il quale gli porta in mano e che è l'audito che gli ama cotanto il quale se egli vi manda voi mi donerete e appresso gli manderete a dire vostra figliola essere apparecchiata di fare il piacer suo e qui il farete occultamente venire e nascosamente me in scambio di vostra figliola gli metterete al lato forse mi farai Dio grazie ad ingravidare e così appresso avendo il suo anello in dito e il figliolo in braccio da lui generato io racquisterò e con lui dimorerò come moglie ed è dimorar con marito essendone voi stata cagione gran cosa parve questa la gentil donna temendo non forse biasimo ne seguisse la figliola ma pur pensando che onesta cosa era il dare opera che la buona donna riaverse il suo marito e che essa a onesto fine a farciò si mettea nella sua buona e onesta affezione confidandosi non solamente di farlo promise alla contessa ma in fra pochi giorni con segreta cautela secondo l'ordine dato da lei e ebbe l'anello quantunque grevetto paresse paresse al conte e lei in scambio della figliola ha già cercò il conte maestrivolmente mise nei quali primi congiugnimenti affettuosissimamente dal conte cercate come fu piacere di dio la donna ingravidò in due figlioli maschi come il parto al suo tempo venuto fece manifesto né solamente d'una volta contentò la gentil donna la contessa degli abbracciamenti del marito ma molte si segretamente operando che mai parola non se ne seppe credendosi sempre il conte non con la moglie ma con colei la quale egli amava essere stato a cui quando a partir si venia la mattina avea parecchi belle e care gioie donate le quali tutte diligentemente la contessa guardava la quale sentindosi gravida non vuole più la gentil donna gravare di tal servigio ma le disse madonna la dio merce la vostra io ho ciò che io desiderava e perciò tempo è che per me si faccia quello che va graderà a ciò che io poi me ne vada la gentil donna le disse che se ella aveva cosa che la gradisse che le piaceva ma che cio ella non avea fatto per alcuna speranza di guiderdone ma perché le pareva doverlo fare a voler ben fare a cui la contessa disse madonna questo mi piace bene e così d'altra parte io non intendo di donarvi quello che voi mi domanderete per guiderdone ma per far bene che mi pare che si debba così fare la gentil donna allora da necessità costretta con grandissima vergogna cento lire le domandò per maritar la figliola la contessa conoscendo la sua vergogna e udendo la sua cortese domanda le ne donò cinquecento e tanti belli e cari gioielli che valiano per avventura altrettanto di che la gentil donna vi è più che contenta quelle grazie che maggior potè alla contessa rente la quale da lei partitasi se ne tornò all'albergo la gentil donna per torre materia beltramo di più né mandarne venire a casa sua insieme con la figliola se ne andò in contado a casa di suoi parenti e beltramo via poco tempo dai suoi uomini richiamato a casa sua udendo che la contessa s'era dileguata se ne tornò la contessa sentendo lui di Firenze partito e tornato nel suo contado fu contenta assai e tanto in Firenze dimorò che il tempo del parto venne e partorì due figlioli maschi similiantissimi al padre loro quegli fe diligentemente nudrire e quando tempo le parve incamminò messasi senza essere da alcuna persona conosciuta a Montpulier se ne venne e qui vi piogiorne riposata e del conte e dove fosse avendo spiato e sentendo lui il di don e santi in rossiglione dover fare una gran festa di donne e cavalieri pure in forma di pellegrina come uscita nera la senandò e sentendo le donne e i cavalieri nel palaggio del conte adunati per dover andare a tavolo senza mutare abito con questi suoi figlioletti in braccio salita in sulla sala fra uomo e uomo la se andò dove il conte vide e gittata agli sapiedi disse piagnendo signor mio io sono la tua sventurata sposa la quale per lasciarti tornare e stare in casa tua lungamente andata son tapinando io ti richeggio per dio che le condizioni postemi per le due cavalieri che io ti mandai tu le mi osservi e ecco nelle mie braccia non un sol figliolo di te ma due e ecco qui il tuo anello tempo è adunque che odebba da te si come moglie e ser ricevuta secondo la tua promessa il conte udendo questo tutto mesvenne e riconobbe l'anello e i figlioli ancora si simili erano a lui ma pur disse come può questo essere intervenuto la contessa con gran maraviglia del conte e di tutti gli altri che presenti erano ordinatamente ciò che stato era e come raccontò per la qualcosa il conte conoscendola e dire il vero e veggendo la sua perseveranza e il suo senno e appresso due così bei figlioletti e per servare quello che promesso avea e per compiacere tutti i suoi uomini e le donne che tutti pregavano che lei come sua legittima sposa dovesse mai raccogliere onorare pose giù la sua obstinata gravezza e in pie fece levar la contessa e lei abbracciò e baciò e per sua legittima moglie riconobbe e quegli per suoi figlioli e fatta la divestimenti a lei convenevoli rivestire con grandissimo piacere di quanti venerano e di tutti gli altri suoi vassalli che ciò sentirono fece non solamente tutto quel dì ma più altri grandissima festa e da quel dì innanzi lei sempre come sua sposa e moglie onorando l'amò e sommamente ebbe cara